il novus libellus di catullo che diventa un ebook antelitteram tutto è possibile se a salire in cattedra sono la fantasia e la creatività degli studenti ai quali è stato chiesto di ricreare in forma digitale il libellus che il poeta latino stando al carme numero uno dedicò all'amico cornelio nepote i ragazzi hanno tradotto e commentato una selezione di cinque carmi che rappresentano i momenti salienti della tormentata storia d'amore tra catullo e lesbia calandosi poi nei panni dell'erudito cornelio gli studenti hanno scritto la prefazione del libellus come gesto di ringraziamento dello stesso cornelio nei confronti dell'omaggio fattogli dall'amico poeta il lavoro è diventato un ebook o libellus electronicus con l'applicazione book creator un esempio di come sia possibile far dialogare tradizione e innovazione coinvolgendo direttamente i ragazzi nel processo di apprendimento senza rinunciare alla qualità dei contenuti una buona prassi di scuola digitale direbbe qualcuno leggere per credere